Bella ragazzi, prima del video mi raccomando, ultimo giorno per partecipare al giveaway di Instant Gaming. Ancora una manciata di ore per cercare di portarvi a casa un gioco a vostra scelta. Nei commenti troverete il link che vi porterà la pagina alle mie spalle dove potrete scegliere un prodotto che desiderate e se sarete estratti ovviamente lo vincerete. Mi raccomando anche ragazzi di seguire i passaggi che ci sono se volete ottenere più chance di essere estratti. Buon video! Wey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi video davvero interessantissimo perché parleremo delle 10 skin più rare rimaste su Fortnite. Ovviamente ragazzi aggiornate al 2019. Ovviamente non parleremo dello Skull Trooper perché già lo abbiamo visto rilasciato pochi mesi fa e anche la Renegade Raider non è più al primo posto come lo era fino a pochi mesi fa. Ma vi ricordo ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi piacciono i miei video mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video nessun aggiornamento e nessuna live. Ma prima di cominciare ragazzi la domanda la domanda come al solito dove voglio i vostri commenti qui sotto in modo da poterli leggere e sentire un po' la vostra opinione. È una domanda semplicissima ma anche molto difficile allo stesso tempo. Qual è la tua skin preferita? Lo so che è difficile perché iniziano ad essere davvero tantissime le skin presenti nel gioco ma la mia personalmente è in love. Ranger la mia prima skin leggendaria acquistata a febbraio del 2018 è rimasta nel cuore e non posso fare a meno che dire che è la mia skin preferita. Quindi ragazzi bando alle ciance, ciancio alle bande insomma l'ho detto al contrario prima di fare la classifica volevo menzionare alcune skin speciali che secondo me meritano un posto come menzione speciale nella lista ragazzi. Sto parlando ad esempio della skin Avoc. Molti di voi se la ricorderanno era la skin del primo Twitch Prime Pack. Quindi ragazzi non era neanche stato così tanto sponsorizzato ed è molto difficile trovarla nelle nostre partite. A me piace particolarmente una skin molto molto interessante un bel un bel carattere come dire un bel disegno mi piace sicuramente merita un posto dedicato così come un posto dedicato lo merita il sub commander ragazzi il sottocomandante anche egli presente nel primo Twitch Prime Pack. Non se ne vedono tanti è in game ne ho visti anch'io pochi quando uscì il primo pack ragazzi e tuttora forse saranno mesi che non ne vedo più neanche uno. Un'altra menzione ovviamente va a questa skin così come non potevo non menzionare la skin Galaxy ragazzi una skin comunque bellissima c'è poco da fare davvero particolare davvero unica lo sappiamo tutti fa parte del set e di chi acquistava un Note 9 o un Galaxy S9 adesso non me lo ricordo bene con precisione ma comunque ragazzi completa con il set che ha regalato Epic Games ai possessori rimane comunque una skin che merita sicuramente una categoria specifica tanta tanta roba per la skin Galaxy che comunque non è assolutamente facile da trovare in game. Quindi ragazzi partiamo subito e andiamo a vedere la posizione numero 10 delle skin più rare rimaste su Fortnite. Secondo ah no prima ragazzi volevo menzionare ancora un attimo prima della classifica tre skin che non sono così rare per chi giocava ovviamente a Fortnite nella stagione 2 ma che meritano tantissimo che sono il Blue Squire ragazzi lo trovavamo al primo livello se non ricordo male della stagione 2 seguito dal Royal Knight che lo si sbloccava al livello 21 della stagione numero 2 e anche dello Sparkle Specialist tre skin che hanno ovviamente solo gli OG players i giocatori originali di Fortnite ovviamente non difficilissime da ottenere ma sicuramente meritavano un'altra menzione speciale. Adesso partiamo invece sì con la nostra classifica e alla posizione numero 10 molto particolare io ci ho messo la skin jolly ragazzi e perché ve l'ho messa una skin ovviamente leggendaria 2000 V-Bucks tra virgolette perché ragazzi questa skin lo abbiamo potuto lo ricordiamo tutti la si poteva ottenere solo durante l'evento High Stakes e se non ricordo male è riuscita solo una volta nello shop quindi ragazzi parliamo di molti mesi fa ormai ne sono passati già 7 quasi quindi tanta tanta roba secondo me per questa skin che difficilmente si vede in giro per la mappa sicuramente molti di voi l'avranno ma i giocatori che hanno affrontato Fortnite ad esempio nella stagione 6 non credo che avranno più possibilità di ottenerla si va avanti ragazzi alla posizione numero 9 ci ho messo invece il Royal Bomber ragazzi la skin che possiamo ottenere con il bundle DPS4 o con il bundle con il DualShock una skin comunque abbastanza particolare ovviamente che non verrà mai rilasciata nello shop e che molte persone si stanno lasciando sfuggire anche se in realtà c'è la possibilità di ottenerne ancora qualcuno se siete fortunati a recuperare uno di questi bundle o se avete soldi da spendere per la Playstation una skin che merita davvero tantissimo alla posizione numero 8 ragazzi vi parlo di Omega e qua mi direte Max Huder ma porca miseria ma Omega ce l'abbiamo tutti era la skin finale della season 4 l'ultimo livello vero ma non parlo di quest'Omega parlo di Omega con gli stili personalizzati perché ragazzi perché per arrivare ad ottenere tutti gli stili personalizzati bisognava fare veramente una caterva di punti e questa skin non era possibile continuarla nella season numero 5 quindi chi ad esempio ha ottenuto Omega con i led viola sappia che è una skin abbastanza rara che non tutti sicuramente hanno il piacere di avere ma andiamo avanti ragazzi e subito alla posizione numero 7 ovviamente non potevo che non inserire il cavaliere nero ragazzi la skin del livello 70 della season 2 quindi l'ultimo livello nella season 2 perché ragazzi è rara questa skin perché nella season 2 non esistevano le sfide settimanali quindi bisognava davvero darci giù di brutto per fare punti esperienza ed arrivare all'ultimo livello e ottenere quindi il cavaliere nero io stesso conosco dei ragazzi che hanno giocato nella season 2 ma non sono riusciti ad ottenere il cavaliere nero quindi skin molto molto particolare andiamo subito ragazzi alla posizione numero 6 dove ci ho messo il codename elf ragazzi l'elfo tutti ci aspettavamo di vederlo in questa season nella season numero 7 perché era presente nel trailer della season stessa e invece con grande stupore non è stato inserito quindi ragazzi l'unica skin di natale non rilasciata diventa assolutamente una delle skin più rare del gioco così come ragazzi lo è la ghoul trooper ragazzi alla posizione numero 5 ghoul trooper rilasciata ad halloween del 2017 non rilasciata ad halloween del 2018 secondo voi ragazzi la rilasceranno nel prossimo halloween non lo so rimane comunque una skin davvero rarissima ma andiamo avanti alla posizione numero 4 due skin ragazzi la skin ion e la skin double helix entrambe fanno parte dei set delle rispettive console ion per xbox double helix per nintendo switch rimangono due skin molto molto rare io personalmente forse ho visto un paio di volte la double helix la ion l'ho vista una volta sola diciamo che per ottenerle bisogna davvero spendere un po di grano e comprarsi le relative console siamo sul podio ragazzi posizione numero 3 assault l'aerial assault trooper ragazzi rimaneva questa skin nello shop speciale che se non ricordo male veniva sbloccato con un certo numero di punti esperienza nella season 1 una skin davvero bellissima ma anche altrettanto rara così come lo è ragazzi al secondo posto la renegade raider lo conosciamo tutti la ricordiamo perché una delle skin preferite di ninja qua invece bisognava fare più punti esperienza rispetto all'aerial assault per riuscire ad ottenerla e quindi ragazzi rimane al secondo posto come una delle skin più rare in assoluto ma ragazzi al primo posto io ho deciso di mettere la skin reflex questa ragazzi è la skin disponibile solo ed esclusivamente con dei pack specialissimi di nvidia geforce dedicati con fortnite quindi ragazzi una skin che anche se non è uscita tantissimo tempo fa io personalmente penso di averla vista una volta sola in game si conferma la skin più rara in assoluto beh ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi in tantissimi al canale e noi ci vediamo presto ciao